Le indagini sono partite. L'accusa è quella di omissione di soccorso. La polizia stradale ha la caccia del ciclista pirata che sabato mattina alle 11 e mezza in via Scalabrini, all'altezza del civico 16, ha investito e fatto cadere una donna. Per lei prognosi di 40 giorni e una serie di micro fratture al volto. Era appena scesa dall'auto per aprire il cancello di casa al marito. Dietro la vettura si era formata una coda di quattro veicoli che stavano attendendo la fine dell'operazione. Nemmeno il tempo di fare un passo e la donna è stata centrata dalla bici in sorpasso. Il ciclista, finito a sua volta a terra, si è rialzato, avrebbe insultato la donna e poi è andato via senza aspettare l'arrivo delle forze dell'ordine. Eppure il marito l'aveva avvisato della chiamata immediata alla polizia stradale. Nella zona purtroppo non ci sarebbero telecamere. Il ciclista ha sicuramente delle abrasioni. Ha tra i 50 e i 60 anni la bicicletta scura.